Saracinesche abbassate e cartelli affittasi sono uno spettacolo insolito nella seconda più grande Chinatown d'Italia. È il segno che qualcosa sta cambiando nella demografia delle città italiane. A Prato c'è un florido distretto dell'abbigliamento dove sono presenti anche 6.000 aziende di proprietà cinese. Dal gennaio 2020, tuttavia, la comunità sembra restringersi. Anche se le statistiche ufficiali non sono ancora disponibili, sembra che molti dei 25.000 cinesi della comunità abbiano fatto ritorno nella madrepatria. La Cina è molto cambiata dagli anni 80 e 90, è diventato un polo di attrazione. Il fatto che sotto tanti punti di vista siano riusciti, per esempio, a essere molto efficaci nel contenimento della pandemia ha fatto sì che molti la considerino come una possibilità concreta quella di ritornare in Cina. Il numero degli studenti cinesi è gradualmente diminuito sin dallo scorso anno. Molti genitori stanno mandando i loro figli a studiare in Cina, anche se solo in via temporanea, per paura del contagio e perché stanchi della didattica a distanza. Ci sono dei cambiamenti qui a Prato. Per la prima volta in 30 anni la comunità cinese si sta riducendo perché molti di quelli che vivevano e lavoravano qui hanno deciso di tornare in Cina per aspettare la fine della pandemia. È anche diminuita di molto la presenza nei luoghi di culto, come dimostrano le immagini di questo tempio buddista nel centro di Prato. Durante le varie feste siamo in pochi rispetto a prima. Per dirti, nel Capodanno cinese 2019 abbiamo registrato circa 3.000 presenze solo per il suono della campana. Quest'anno eravamo in 20. Forse è troppo presto per dire se la tendenza dei cinesi in Italia a fare il ritorno nel loro paese d'origine sia definitiva, ma è probabile che la pandemia di Covid-19 stia cambiando la demografia non solo di Prato, ma anche di altre città italiane. Luca Palamara per Aeronews Prato.